Abbiamo finora visto 37 nazioni e finora è un'avventura grande e non è finito. Oggi siete qui a Sansepolcro anche perché c'è un legame fra questi due tipi di viaggio. Voi avete conosciuto i nostri concittadini. L'abbiamo conosciuta per caso alla frontiera Russia-Ucraina-Russia. Era una serata e noi abbiamo dormito nella stessa albergo e così l'abbiamo incontrato. C'era una serata divertente con quei due ragazzi e abbiamo deciso di fare la giornata dopo. La frontiera Ucraina-Russia era la prima frontiera un pochettino grande con i documenti e il controllo delle macchine. Così eravamo un pochettino nervose. Cosa succederà? Di tutti gli stati, popoli e anche territori diversi che avete avuto modo di visitare, che cosa vi è rimasto più impresso? L'impressione più grande della Russia c'è la regione Altai, molto molto bella. E anche la regione della Mongolia. La natura è incredibile cosa si vede di qua. Però si deve anche dire che la macchina era distrutta dopo la Mongolia. Ogni serata doveva riparare qualche cosa per continuare il viaggio. L'altra parte è l'ospitalità delle persone che abbiamo trovato incredibile, che hanno detto venite a casa nostra per dormire, facciamo da mangiare, la cena, il pranzo e hanno anche dato aiuto per la macchina quando eravamo problemi. Erano stranieri per noi e noi eravamo stranieri per loro. E queste sono situazioni incredibili, che non si creda che è successa, che è successa veramente. Questo viaggio avete poi deciso di prolungarlo? La preparazione totalmente erano cinque anni. È un periodo lungo per preparazione e dopo eravamo veramente contenti della partenza. E ora siete qui a Sansepolcro, che cosa visiterete nella nostra città? Facciamo una visita al museo e noi veramente abbiamo piacere di fare un cammino sulla città vecchia, di guardare le case e i palazzi.